ciao ragazzi io sono davide benvenuti sul mio canale youtube oggi siamo venuti in un bandino vicino casa piccolino ma caruccio perché voglio testare le bando survivor le antenne fatte dal mitico petruzzo fpv che ormai sta diventando famoso in tutta italia per la qualità delle sue antenne e ha realizzato queste antenne proprio per gente come me cioè gente che si diverte nel bando ha bisogno di qualità video e di resistenza eccola qui ragazzi la bando survivor questa che ho in mano è una lhcp ma viene prodotta anche a polarizzazione rhcp questa antenna omnidirezionale è stata progettata appositamente per resistere ai crash quindi è consigliata per coloro che volano all'interno dei bando che fanno freestyle aggressivo e quindi tutti coloro che rischiano di crescere e che sbattono spesso perché devo dire che è molto molto resistente questa qui che ho in mano è un'antenna che ha già fatto una decina di crash vedete pure un po rovinata eppure ragazzi non lo so sembra comunque nuova e non ha calato la sua qualità è un'antenna che ha un guadagno di 1.2 dbi viene garantito un svr minore di 1.2 il che vuol dire che è veramente ottimo ed è stata costruita con questa scocca di plastica che protegge i circuiti e questo connettore sma molto 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 resistente tant'è che qui dentro è stato inserito anche un pezzo in metallo infatti ragazzi devo dire che riesce ad adattarsi bene comunque come la prendete in mano e provate a piegarla vi rendete conto della sua resistenza viene prodotta in due formati questa è a 6.5 centimetri e questa è a 8.5 centimetri l'unico punto che è leggermente a sfavore di questa antenna è il suo peso pesa intorno ai 12 e 70 grammi questa è la versione a 6.5 centimetri se vado a pesare la versione a 8.5 centimetri stiamo più o meno su un grammo scarso in più quindi 13 e 54 si sacrifica un po di peso a favore della resistenza l'ultima versione prodotta quella in seguito ai vari test effettuati finora la devo ancora rompere addirittura ha preso anche fuoco e come dice il nome è sopravvissuta perché questa è la bando survival prima proveremo un'antenna di media diciamo qualità che è questa LHCP della Uruav trovate il link qui sotto in descrizione e la mettiamo a paragone con la bando survivor di Petruzzo e testiamo in primis qual è la differenza sulla penetrazione del segnale e sulla qualità video complessiva ragazzi sul mio drone ho montato questo connettore collegato alla Caddx Vista non ho preferito utilizzare direttamente l'antenna della Caddx Vista che come sapete è l'antenna collegata direttamente all'aggancio sulla Caddx perché perché questa è una configurazione da bando capita spesso che il drone sbatte e mi è capitato che il cavetto della Caddx Vista con i botti si stacca quindi in questo modo ragazzi le botte le prende direttamente l'antenna che sta sul connettore e per ogni evenienza siete sempre in grado di sostituirla svitandola e riavvitandola in un attimo con l'aggiunta di un connettore quindi senza collegare l'antenna direttamente alla Caddx si perde qualcosa ma parliamo di circa 0,2 dbi che sono veramente poca cosa che vengono tranquillamente mitigati se ci collegate un'antenna buona la Caddx Vista impostata 1200 mv sui miei DJI FPV Google ho impostato la trasmissione a 50 megabit per secondo e abbiamo il focus mode impostato ad auto sui miei occhiali ragazzi sto usando il set AXI HD se gli volete dare un'occhiata vi lascio qui sotto i link dei video con tutti quanti i miei test che ho fatto su questo set qui per rendere questo test effettivo che cosa ho intenzione di fare allora questo è tutto quanto il bando che vedete saranno non lo so forse una sessantina di metri di mura lamiera vegetazione acqua e via discorrendo io mi voglio mettere dietro all'inizio di questa struttura mi metterò proprio in questo punto qui e sono completamente avvolto tra queste strutture metalliche qua punto le mie AXI HD verso quella direzione lì andrò in quella direzione lì mi faccio un giretto dietro la prima struttura e dopo di che mi infilerò nella seconda struttura ragazzi vi assicuro che a livello di segnale video è un test bello cattivo e secondo me accuserà anche il segnale radio sto sicuro qui sto montando ragazzi la Uruav LHCP al mio quad ecco il primo test mi accingo a oltrepassare la prima struttura qui nessun problema di segnale video pure il RSSI non lo vedete ma è a 99 fisso qui vado dietro la prima struttura quindi c'è sta cura di cemento armadio lamiera e qui i primi pixel ok tutto sommato si riesce a guidare percepisco una leggera latenza ma poca roba qui mi accingo ad entrare nella seconda struttura e qui già non si vede ma c'è una piccola laggata che mi ha fatto sbattere all'ingresso qui vedete ai lati ci stanno grossi pixel quindi già il segnale video è molto molto disturbato mi muovo lentamente perché c'è un po di strizza devo dire la verità e qui come oltrepasso quest'altro muro di lamiera eccolo lì che mi lagga pesantemente vedo tutti i pixel vi assicuro che il DVR è anche meglio e negli occhiali vedevo sicuramente peggio e qui esco fuori adesso andiamo con il secondo test monto la bando survivor eccola qui lhcp stessa stesso percorso decollo oltrepasso questa struttura che dentro c'è mura di cemento armato lamiera ci stanno trattori abbandonati c'è di tutto là dentro quindi qui vado dietro questa struttura e qui già vedo che il video è più fluido lo più fluido nei comandi qui anche sperimento un po di pixel ma comunque la guida mi si è sembrata più fluida ragazzi ok qui mi dirigo verso la seconda struttura dove il segnale video viene messo più a dura prova entro tranquillo non mi lagga qui addirittura l'RSSI è sceso il dynamic power l'ha portato su riesco addirittura a spingermi vedete giù in fondo comunque vedo pixel ma riesco a guidare e qui giro l'ultimo muro di lamiera anche qui vedo dei pixeloni ma vedete qua il video è più pulito e qui mi ha laggato però giù in fondo ok diciamo che con la bando survivor mi sono spinto molto molto più in là adesso mettiamo a paragone i due dvr sinistra vedete ci sta la uro a destra la bando survivor e già vedete insomma che a sinistra ci stanno un po di pixel in più c'è una leggera differenza già dalla prima prova e qui la seconda ragazzi si vede proprio che a sinistra ci stanno pixel più pesanti ok qui ho rallentato anche il volo vedete quando raggiungo il secondo capallone a sinistra già non vedo vedo tutti i pixel a destra con la bando survivor sono riuscito a spingermi un po più in là a sinistra la urwav mi laggava pesantemente quando sono ritornato nei pressi dell'uscita tutto a posto a livello di qualità video non c'è proprio paragone con le bando survivor sono riuscito ad arrivare proprio fino in fondo e comunque riuscivo a pilotare con l'altra antenna mi ha laggato sia all'ingresso dell'ultimo capannone infatti ho sbattuto e dentro non mi sono spinto più di tanto perché vedevo proprio era tutto un mare dei pixel quindi effettivamente la differenza c'è e si vede adesso testato il segnale video ragazzi si testa la resistenza la resistenza di un'antenna dipende pure dal modo in cui è collegata un supporto in tpu tipo questo vedete se tenete il filo leggermente lungo se prendete le botte ok questo sbatte e molleggia già questo è un ottimo aiuto sulla resistenza diversi botti adesso ne aggiungiamo altri è pure andato a fuoco ok ragazzi da questo bandino è tutto vi lascio il link delle antenne di pietro le bando survivor qui sotto in descrizione oggi abbiamo testato la qualità video ed è una bomba abbiamo testato la resistenza ed è una bomba le dimensioni sono leggermente più grandi ragazzi ma questo è il compromesso se poi alla fine volete un qualcosa di resistente e ci sarà pochissimi grammi di peso in più rispetto alle altre che comunque è trascurabile questo è tutto complimenti pietro per quest'antenna la porterò con me tra le mura di cemento armato un saluto a tutti ragazzi ha 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 Grazie a tutti.